Il volontariato, specialmente in ambito montano, rappresenta una componente essenziale della società di oggi. Permettere alle tante associazioni operanti sul territorio di raccontarsi ai cittadini, ma anche di entrare in contatto meglio fra di loro, questo l'intento dell'amministrazione comunale di Belluno, con l'iniziativa promossa in sinergia con il Comitato d'Intesa e CSV Belluno, sabato 28 settembre in Piazza Martiri, a partire dalle ore 9, e destinata, secondo le intenzioni, a diventare un appuntamento annuale. La finalità è quella di promuovere le associazioni di volontariato. Sul Comune di Belluno ricadono 200 associazioni. L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di portare almeno 50 associazioni in piazza per farle conoscere ai cittadini. Dalla cultura all'ambito sociosanitario, alla protezione civile, all'ambiente, innumerevoli le espressioni del mondo associazionistico bellunese che si potranno ammirare. Non mancheranno inoltre nel corso della giornata esibizioni canore ed occasioni di intrattenimento, ma anche di riflessione realizzate dalle stesse realtà. Presente inoltre un punto di ristoro a cura dell'associazione APS Pantera Rosa. Io credo che sia veramente bello anche partecipare e conoscere cosa il territorio, quindi il mondo del volontariato, offre alla nostra società e guai mancasse.